Salve a tutti amici, sono il ricercatore indipendente Emiliano Babilonia. Da questa mattina che sto facendo delle analisi neurali con il mio elettroencefalografo. Ovviamente abbiamo sia io, ricercatore indipendente, che dei medici che stanno collaborando con me per la soluzione al sistema che opera attraverso le manipolazioni radiocognitive, attraverso le tecnologie in arma di energia diretta d'onda convogliata che sparano le frequenze dai satelliti spiega in orbita bassa nel nostro cervello e sul nostro corpo. Ovviamente le frequenze si amplificano attraverso i campi elettromagnetici e attraverso la rete elettrica nazionale che utilizza dei sistemi transponder, diciamo degli access point neurali attraverso le frequenze dei wireless, attraverso le frequenze dei trasmettitori radio, delle radio, delle televisioni e delle tv. Ma ovviamente sono access point neurali che servono per creare la smart city neurale per interfacciare i centri nervosi del corpo di tutte le persone in stazione nel territorio nazionale italiano e immettere nel loro cervello e nelle loro frequenze fisiologiche determinate patologie simulate, determinate dipendenze simulate che portano molte persone a una incapacità di intendere e di volere o addirittura li fanno dedurre a gesti inconsulti e disperati che li portano ovviamente a fare delle stragi, a fare uso di sostanze stupefacenti, li portano al suicidio. Molte di queste patologie riamplificate sulle vittime del controllo neurale e su cittadini inermi e ignari di quello che gli sta accadendo portano a tumori, lucemie, eschemie cerebrali, trombosi, neurismi, opacizzazione della cornea dell'occhio in potenza, perdita della fertilità e tanto altro. Ovviamente possono creare 200 patologie simulate attraverso le interazioni della mappatura cerebrale e attraverso le frequenze di innesco e sollecitazione del collegamento. Smart City Neurale Gli access point neurali sono tutto ciò che è collegato a una fonte elettromagnetica esterna e tutto ciò che è collegato attraverso la rete dei satelliti di spia in orbita bassa con frequenze a fotoni, frequenze particellari, frequenze a campo elettromagnetico. Ci sono delle società deviate, delle società di intelligence che operano attraverso il sistema duale di appalti ed esperimenti effettuati da militari e società massoniche che operano con un sistema multiplo per operare attraverso il sistema di sperimentazione e collaudo del manciuriano radiopilotato. Ovviamente qui il manciuriano radiopilotato deve essere pilotato per fare dei reati blandi ma che fanno entrare nelle casse dello Stato miliardi tipo uso di sostanze stupefacenti, dipendenza al gioco, dipendenza a determinati tipi di farmaci che loro credono che la loro patologia e che i loro disturbi dipendano da loro stessi o dalle loro frequenze fisiologiche ma in realtà sono patologie simulate attraverso le radiofrequenze ad onde convogliate degli access point neurali che stanno creando in tutta la nazione italiana. Molte vittime del controllo neurale, molti uditori di voce e molti elettrosensibili dopo che ho dato dei consigli di utilizzare degli occhiali polarizzati, delle cuffie insonorizzate e di andare in mezzo a dei prati in modo che non possano interagire con le frequenze di campi elettromagnetici sembra che piano piano si stanno scaricando di queste radiazioni simulate sul corpo di queste grave patologie che sono state immesse attraverso i campi elettromagnetici che vengono assorbiti dai puntamenti satellitari in arma di energia diretta che sparano dentro le stanze dei loro appartamenti o dentro le stanze delle loro abitazioni. Ovviamente tutto questo deve far capire alle vittime del controllo neurale che determinate patologie e deduzioni che loro hanno sono la manipolazione radiocognitiva che serve per pilotare i loro pensieri e distorcere la realtà dei fatti, la realtà della tecnologia e le stesse vittime che vengono sottoposte a questi esperimenti stanno diventando dei disinformatori stanno dichiarando pubblicamente delle notizie false che gli vengono impartite attraverso il radiocontrollo satellitare e che gli vengono impartite attraverso anomali associazioni in Alt'Italia che dicono di aiutare queste vittime ma in realtà le stanno schedando per poi dare i nominativi di queste povere vittime ignare di quello che gli sta accadendo a organizzazioni criminali, militari come anche lo stesso fondatore di questa associazione dice che lui è un militante e che lui sta combattendo per aiutare le persone ma in realtà chiede solamente soldi soldi, soldi, soldi in continuazione a queste povere vittime a queste povere cavie, a queste povere persone immesse in un campo di concentramento neurale che è la nazione italiana se volete testimoniare sulla mia radio web Emiliano Babilonia Springer se volete testimoniare sui miei canali di Youtube Angeli Custodi MK Oltre Italia o Emiliano Babilonia contattatemi voglio ricordare a tutte le vittime del controllo mentale e ai familiari di queste vittime molti ragionamenti, molte preoccupazioni molte frasi, suoni che sono indotti all'interno del loro cervello di queste ignare vittime che vengono sottoposte a questi sistemi di trattamento mentale e queste sperimentazioni collaudi di altre tecnologie non sono le loro ma gli vengono impartite da una sorta di allucinazione o da una sorta di narcolessia indotta che immette patologie all'interno del loro cervello e che fanno sì che queste patologie vi fanno sembrare dei schizofrenici malati di mente e tanto altro voglio ancora ricordare che queste radiazioni non fanno bene non vi curano vi creano tumori lucemie eschemie cerebrali trombosi neurismi opacizzazione della cornea dell'occhio impotenza perdita della fertilità bloccano il vostro cervello e la vostra vista mentre state alla guida per farvi fare gravi incidenti stratali inducono le persone all'uso di sostanze stupefacenti inducono le persone a fare suicidi massonici radiopilotati guardate io utilizzo delle strumentazioni professionali faccio un'analisi cerebrali e se vi dico che stanno creando la mente piatta su tutte le persone che vengono sottoposte a questi trattamenti celebrati e neurali per creare il manciuliano che non deve rispondere non deve avere nessuna sollecitazione attraverso sintomologie o attraverso frequenze che possano interagire col suo cervello devono essere dei morti viventi dei lobotomizzati non devono più avere sentimenti non devono provare più amore non devono provare più rabbia non devono provare più niente e questo è il loro scopo del progetto Monarch e del progetto MKUltretaglia un saluto a tutti amici da ricercatore indipendente cave umana dal 10 febbraio del 2001 Emiliano Babilonia no semplici ciarlatani che parlano male sul web o parlano male tramite facebook o parlano male tramite i loro anomali canali i nomali siti che dicono che io mi invento le storie che faccio io ho centinaia di video che provano quello che io dico ho centinaia di testimonianze che ho pubblicato sui miei canali che le potete andare a vedere no come anomali microchip nella testa poi si fanno operare il microchip non esiste ma adesso ultimamente sta uscendo la nuova la nuova buffonata che si sono inventati le fotografie fanno vedere il laser o l'arma a microonde o l'arma ad energia diretta che ci spara dentro casa ma quale fotografia un'altra bufala per fregare le persone che devono portare soldi a queste associazioni a questi criminali che vogliono far credere che le loro soluzioni servono per aiutare ma in realtà stanno buttando giù economicamente e moralmente le vittime del controllo neurale non andate a dare i vostri nominativi non andate a dare i vostri documenti a questi criminali che poi prendono le vostre identità i vostri dati e li pubblicano pubblicamente per farvi attaccare dai stalker per farvi attaccare dalle organizzazioni militari oppure addirittura vendono la vostra identità segreta la vostra identità cellata ai stessi sperimentatori che incominciano a farvi poi esperimenti militari perché sanno dove abitate chi siete con la vostra fotografia con i vostri indirizzi con i vostri numeri del telefono un saluto a tutti amici da Emiliano Babilonia grazie a tutti